Il mercato di gennaio, non solo della Lazio, due paroline due, visto che me l'avete chiesto in tanti così mi distrago un po' dalle disgrazie personali Il mercato di gennaio, il mercato di gennaio è stato un mercato interessante, tante cose sono successe, tante squadre si sono mosse bene Si sono andate a rafforzare tanto, tanto, veramente, ma anche inaspettata devo dire e non racconterò, cioè non darò un parere su tutto perché non ho seguito onestamente ogni cosa Però un paio di cosine ci tenevo a dirle, allora secondo me chi si è mossa, cioè regina del mercato invernale è la Juventus ragazzi, sicuramente la Juventus Perché a parte Vlaovic, sicuramente il migliore attaccante che si potesse prendere in questo momento la Juventus per mille motivi È abituata alla Serie A, ha già dato prova di grandissimo talento e in prospettiva è uno dei centravanti più forti del mondo L'hanno pagato veramente una bella cifra e li vale tutti quei soldi, onestamente Quello che fatico a capire è la Fiorentina, che regolarmente offre su un piatto d'argento i suoi migliori talenti alla Juventus In una delle uniche annate in cui stava veramente risalendo In una delle poche annate in cui poteva veramente ambire a una posizione più alta In una delle poche annate in cui stava insidiando addirittura la stessa Juventus per un posto in Champions Tu vai a dare il migliore giocatore tuo alla Juventus Però, vabbè, lì logiche di mercato, esigenze perché poi lui si sarebbe sganciato Ho capito, però in questo momento fossi il tifoso della Viola non riuscirai a essere proprio particolarmente entusiasta Per quanto poi la Fiorentina si sia tutelata piuttosto bene con tre acquisti Tra cui lo stesso Cabral per tamponare Però Vlauric, Vlauric ragazzi Va bene tutto però è pur sempre oggettivo Però, una cosa che ci tengo a dire, secondo me la Juve L'acquisto migliore che ha fatto in questo momento Vedete, ma sei pazzo? No È Zaccaria Zaccaria, ragazzi, chi lo ha visto giocare lo sa È un giocatore di livello veramente Di livello Fa la differenza, veramente Giocatore meraviglioso, secondo me Io avrei pagato oro per vedere la Lazio del genere in questo momento soprattutto Giocatore che farà la differenza è che a conti fatti chiude un mercato straordinario Perché la Juve non solo è riuscita a prendersi Vlauric e Zaccaria Ma ha anche piazzato Kulosevski e Betancourt fuori Incassando di fatto praticamente la stessa cifra a spesa per Vlauric Voglio dire Stai sono mossi bene Stai sono mossi bene Che glielo vuoi dire? Niente Non glielo vuoi dire niente Esattamente come non puoi dire niente all'Inter Che ha fatto un mercato oculato, intelligente Andando a rafforzare quei ruoli che servivano E si è presa Caicedo Che secondo me, insomma È il miglior dodicesimo uomo d'Italia in questo momento Da un bel po' E che gli garantirà di essere ancora più letale al novantesimo Visto che l'Inter già ne vince parecchie in quegli ultimi minuti Con Caicedo, ovvero, che è una sfia di successo Ma soprattutto Gosens Che il Koinzaghi farà le buche Gosens-Koinzaghi diventerà propriamente uno dei migliori esterni del mondo Se già non lo è Ecco Per cui Inter che secondo me mette veramente la freccia Per rimanere sulla corsia di sorpasso Tutto Tutto l'anno Sicuramente gli interessi si toccheranno Fate come vi pare Però Io devo essere Devo essere oggettivo Nei limiti del possibile E cercare un po' di raccontare le cose per come le vedo Per cui Inter secondo me che rimane un passo avanti a tutti Chi non si è mosso particolarmente bene È il Milan Che credevo avrebbe fatto qualcosa in più Soprattutto considerando l'infortunio di Kier E non è successo Mi aspettavo qualcosa di più anche dal Napoli Che si ha preso un buon difensore per sostituire Manolas Ma Anche lì credevo che si sarebbe fatto qualcosa in più L'Atalanta ha compensato L'addio di Gosien Con Boga Tenendo Prendendo anche Miala Se non sbaglio E tenendo Miranchuk Per fortuna Lo posso dire Talassiale Per fortuna Come dicevo ieri Prendere uno Fuori ruolo Per adattarlo Va bene così Poi l'abbiamo fatto lo stesso Perché poi appunto Due parole su Alazio Le voglio spendere In chiusura No Prima 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 Inter Juve La Roma La Roma ha comprato Maite and Lyles Sergio Liveria Che sono ottimi Ottimi innesti Per cui anche loro hanno fatto un buon mercato E adesso diciamo che Che la Roma è una rosa abbastanza completa Secondo me Però adesso arriviamo Arriviamo alla Lazio Mi sono lasciato come pasticcino Come pasticcino Di fine Di fine video E Si è chiusa come temevo Nella maniera peggiore possibile Con l'acquisto di un esterno Che dovrà essere adattato come attaccante Uno che sembra Che insomma Non è che sia neanche Fisicamente molto integro In questo momento Quindi le prospettive Non è che si può Escezionare Vabbè Quindi le cose Non stanno proprio Non stanno proprio Alla grandissima Dal mio punto di vista E poi Abbiamo tesserato Kamenovic Quindi anche la difesa Cioè uno che aveva già bocciato A giugno Sarri All'agosto Quello che è L'abbiamo tesserato Così Sarri Adesso sarà sicuramente Contentissimissimissimissimissimo Contentissimissimo Contentissimissimo E ci siamo Ci siamo Ci siamo Ci siamo rafforzati Si è Arrivato il difensore centrale Non lo vedete ma lui c'è Non lo vedete ma lui c'è No A parte scherzi Il solito mercato è l'ultima ora, ma la cosa che mi ha fatto più male è vedere come, peraltro sia stato confermato la svariata detta ai lavori, la Lazio si stia mossa con frenetica angoscia nelle ultime ore, aprendo tavoli, chiudendole alla velocità della luce per cercare di prendere qualcuno. Ma perché? Perché questa cronica incapacità di lavorare in maniera lungimirante, di programmare qualcosa, perché? Perché? Quindi adesso bisognerà vedere un po' cosa accadrà, però ci si aspettava di più, ci si aspettava di più. Diciamo che se dovessi dare un voto alle squadre di cui ho parlato darei un 9 alla Juventus, darei un 8 all'Inter, darei un 7,5 all'Atalanta, darei un 7,5 alla Roma, perché comunque ha preso due buoni giocatori, darei un 5,5 a Milan e darei un 4 alla Lazio, se non 3. Ma non perché io sia laziale in questo momento arrabbiato, perché oggettivamente ho un mercato da 3, da 4, quello che tanto sempre insufficienza grave è, e a Napoli darei un 6. Hanno rafforzato la difesa, hanno messo a posso la difesa, ecco. Però più di questo, che gli vuoi di? Niente. Per cui io prima di trascendere anche quest'oggi, mi fermo qua. Vi ringrazio e vi do appuntamento a sabato. Sì, sabato. Salvo colpi di scena che non mi stupirebbero in queste ore relativi a Sarri, ma vediamo che succede. Sempre forza Lazio e ci vediamo sabato. Ciao. 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 Grazie.